ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di salvadori live oggi vi vorrei presentare una cornice forse anche molto salvadori una cornice elegante una cornice raffinata una cornice con un stile che si avvicina molto all'art deco che è uno stile che a me piace moltissimo questa collezione si chiama broadway lo troviamo in due finiture finitura dorata a mano oro e argento la particolarità di questa finitura cos'è che appunto l'abbina molto all'art deco è il fatto di avere la schiena nera quindi troviamo questa combinazione tra doratura e schiena appunto nera opaca questa è una doratura come dicevo prima fatta a mano a foglia e poi il tutto viene cerato e viene lucidato sempre a mano quindi molto importante in questa in questa collezione è la tonalità sia dell'oro che è un oro molto molto giallo un oro anche diciamo a metà strada tra quello che può essere un lucido e un oro un oro scuro quindi un oro punto dal mio punto di vista molto elegante perché appunto non grida e come vedete la finitura invece argento si tratta di un argento caldo un argento meccato che molti punti lo chiamano anche champagne a me piace anche chiamarlo ad esempio oro bianco questa finitura o meglio questa collezione broadway la troviamo in sei profili tre su una forma diciamo squadrata ecco per questo dicevo che è anche una collezione classica ma anche moderna appunto del tipo di profilo e invece tre profili li troviamo a cassetta quindi con la schiena più alta e la parte frontale più più stretta come vi ho spesso detto nel nostro sito potete trovare il programma frame è aperto a tutti dove potete sia scegliere delle immagini della nostra collezione salvadori arte come appunto potete anche caricare la vostra immagine provare le varie combinazioni con una barra due cornici potete anche aggiungere un passepartout e poi questa combinazione la potete anche salvare ma la potete anche posizionare in un'ambientazione che abbiamo scelto noi o anche nell'ambientazione della parete di casa del vostro cliente poi il tutto lo potete anche mandare via email in modo che appunto il vostro cliente a casa se la riguarda al contrario mi sembra di aver detto tutto grazie per averci seguito in questa nuova puntata di salvadori live e ci rivediamo alla prossima volta grazie e ciao grazie a tutti